Si è concluso il girone di andata della Coppa dell'amicizia Axi, manifestazione collaterale inserita nel campionato amatoriale di calcio 11 che si disputa al centro sportivo Paolo Graci di Contrada Stretto a Licata. Nella terza giornata la sfida tra Licata Calciomania e Roserosse si è conclusa con il risultato di 5-1 per gli uomini del presidente Giovanni Spiteri, doppietta di Fernando Cammarata, una rete a testa di Chetano Crimenti e Antonino Gueli ed una autorete, mentre il gol della bandiera per gli uomini del presidente Peppe Cellura è stato realizzato da Salvatore Zarbo, il gol dell'ex. Nell'altra sfida tra Atletico Licata ed Eur Palma ci sono stati molti gol, ben 10. Ha vinto l'Atletico di Mister Chetano Profumo con il punteggio di 7-3 sugli uomini di Giovanni Azzarello. La situazione di classifica dopo il girone di andata è questa. Nel gruppo A, Falis Cupido e Licata Calciomania hanno 4 punti a testa, Roserosse 0 punti. Nel girone B, Atletico Licata con 6 punti, Eur Palma con 3 ed Ecopoint Canichetti con 0 punti. Prossimo turno, domenica 13 gennaio, con il ritorno di Coppa. La prima sfida alle 9, quella tra Eur Palma e Atletico Licata. A seguire alle 10.30, Roserosse, Licata Calciomania.